Spostato per motivi di ristrutturazione dell'aula consigliare, un crocifisso non è più stato riposizionato all'interno della stanza. Per questo motivo il consigliere Salvo Sorbello lancia un appello, motivandolo nel modo che vi raccontiamo, e presenta un'interrogazione. Crocifisso nell'aula consigliare del comune di Siracusa, tolto qualche anno fa per una questione di ristrutturazione, comunque una questione pratica, e non più rimesso. Da qui il consigliere comunale Sorbello si chiede perché questo crocifisso non faccia il suo ritorno all'interno dell'aula consigliare. Non ci sono motivazioni, non ci sono contrasti reali, allora perché? Infatti me lo chiedo pubblicamente da circa tre anni senza ricevere alcuna risposta. Non voglio che si trasformi in un argomento né di polemica politica né di polemica religiosa. Voglio soltanto sapere perché se un tecnico che doveva fare dei lavori ha preso questo crocifisso e lo ha spostato senza più rimetterlo, perché non deve ritornare al posto in cui è stato per decenni senza che nessuno mai contestasse la presenza. Lei è una persona di forte fede cristiana, lo sappiamo, potrebbe controbatterle qualcun altro, magari laico o quant'altro. Perché un simbolo che sembrerebbe in posto? Avrebbe una risposta anche a questo? Beh, la risposta è nella nostra storia e nella nostra identità. Il crocifisso si trova praticamente in moltissimi luoghi pubblici, in quasi tutte le aule consigliarie dei comuni italiani. Io sono consigliere nazionale dell'Associazione dei Comuni Italiani e le posso dire che, ad esempio, a Genova, dove non c'era mai stato, è stato collocato lì da qualche mese. Non è soltanto un simbolo religioso, è un simbolo della nostra storia, della nostra identità. Non vuole essere una battaglia di religione, tutt'altro, vuole essere soltanto la riaffermazione delle nostre tradizioni culturali che è alla base della nostra civiltà.